salve ragazzi e bentornati su bad boys channel io sono il vostro amichetto asrel 44 44 29 56 e qui c'è il nostro 7 sergio e l'uomo dei numeri qui vicino a me è sempre il nostro carissimo amico inseparabile il contabile gioco il contabile gioco ragazzi siamo a philip island tra l'altro non dà il nuovo sponsor nuovo sponsor ragazzi kickstar vedi c'è a me le doppie dell'ip ragazzi cosa è pista di merda bagnata ma non perché la vista sia di merda e di merda perché bagnato hanno al bagnato non ci piace non è che ci piace ci piace ma come modo è giusto che sia così esattamente no ci piacciono le piste bagnate ma non con questa moto semplicemente perché la moto che rovina non vedo un cazzo non leva del coro ecco ho fatto oddio te giuro non l'ho visti ed è giusto che non ho visto perché stavano oltre di pioggia e io infatti perché sono andato fuori traiettoria no io a traiettoria l'ho presa pure abbastanza prendiamo il bagnato come se ne è poco andata dietro addio bello figura di merda ninja ninja ragazzi dice che chi meglio inizia o io non mi dico che ti giuro neanche io io prima non l'ho visti proprio che stavano là sono troppo forte e non sono riuscito a frenare a quel lato dai coglioni però no viva di ciò la cosa non so come se ne va vabbè manco fosse tutta sua potenza è moglie ho fatto un po di accelerazione spigna fai te rollo vai fuori prendo larga e ne supero 3 giusto così mia sul cordolo io tanto ormai il cordolo è tuo amico non te lo dimenticare il cordolo è tuo amico specialmente poi quando è bagnato ho fatto un volo come un pagliaccio ride pagliaccio non è che i pagliacci volano non l'hai mai vista il circo si ma volano parlami bambina oh cazzo ma si è presa larga però frena sto arrivando addio mi amor dai dai è già rettilino madonna eh purtroppo beh però eh ma perchè questa è una vista veloce eh ma gli dai testa però eh oh cazzo qua tocca frenare bello no manco da eh io rallendo qua mezza terve che me madonna me se n'è andata me se n'è andata proprio eh appunto ti ho detto mamma mia che cazzo oh cazzo covio com'è muo' freno eh ah c'è c'è un bianco di freni freni acceleratore nuovo bravo bravo giusto che sia così ragazzi abbiamo deciso di fare un ultimo cambiamento nel senso di fare soltanto urca boia oddio vedo solo scintille non vedo te ok ti ho visto wow non ti preoccupare ti vendico io e niente sul bagnato se ne va se ne va si cioè già se ne va da sola quando non è sciuta stavamo però devo arrivare prima di terror è una questione di detigna detigna proprio ragazzi terror è bravissimo cioè però è una merda cioè è proprio una merda come è una merda come uomo è una merda come uomo giustanti si salutano per strada ma la dal cazzo è piuttosto ragazzi per non frenare guarda per non frenare se non mi se ne andava eh dimmi con il kamikaze no non lo fare che ci sono io cazzo chiamatemi kalashnikov helicotter staccata prova fa la staccata la retta la retta oddio ho fatto un po' di motocross eh però va bene ottimo ma dove sta a terror non sta ma porco cazzo ma oh mamma mia tu do stai eh t'ho visto mi ha superato ero prima oh stai dietro a flanagan fomegan cazzo no oh cazzo guarda che della fata ragazzi la intraverso ci riesce solo lui non è vero io ho ho la traversata sul caduto è ma io no però l'ho e intraversata i curati ho entraversata sono dietro smith è brutto dirlo ma sono dietro smith non te ne vai a mark landers se il regolo sta dietro smith smith è passato cazzo ti vedo che stai raccomandando margherita non so se tocca i freni andavo lungo appunto io pure avevo 70 volte avuto fare che non tocca i freni ecco te rollo uccidilo è giusto che sia così cioè è giusto che tu ci provi non che non cazzo è il cortese si levi dei coglioni sembra quel bianchino del cazzo c'è dietro un gelataio del cazzo e che cazzo a cortese devi dare i coglioni eh si cortese no dai flanagan oh su settimo vai allungo qua fuori due oh ci si senti qua ma sai che di accelerazione va? ha migliorato un po'? mh cioè non eccessiva eh io ho messo la cosa pare che corre di più su un bagnato che su un asciutto no perché gli altri vanno più piano e noi siamo un po' spericolati oh mamma mia oh porca troia no vabbè dopo ti giuro ti faccio rivedere il video ti vedete che cazzo di curva ho fatto bella cioè mi sono fatto in una curva a traversare è giusto che sia così marquez sarebbe orgoglioso non so direbbe tu se è il mio degnerede si lui è l'erede nostro va bene ci provo ci provo ma non posso superare rettilineo certo che è stronzo ignazio sul rettilineo cazzo brutto spiritoso del cazzo madonna pagateci di più vedrai che no sono andato fuori ho presa malissimo ma è partita mi è partita porco cazzo vabbè dai c'è un giro posso riprendere ancora mannaggia non mi arretto non mi arretto la curva è stronza no ma l'ho sempre fatta ma non lo so l'ho presa troppo veloce ve lo strafa un attimo la moto di sgrida vabbè riprendo dai non arrivo prima ma almeno secondo ui cordolo di merda mi ha sbalzato fuori ho detto no tu non sei più mio che porco io non sono più tuo cioè dipende qua da questi si vabbè potrebbe anche essere la moto che si è ribellata ma se è così gli daremo fuoco questa notte perché perché se non ti devi ribellare al tuo padrone no più che altro sei ribellata al cordolo non ti devi ribellare al tuo padrone la moto fa quello che dici tu giustamente guarda come viaggia questa cosa madonna e me riparte madonna ma porca trota no non va bene così non va bene cioè mi è partita due volte oh due volte no ma ci manca ancora un altro giro che palle meno male dai elevate porco se fermano se fermano in curva se avete paura dove ho bagnato non vorrete statevene a casa datevi malati corro io esatto quando i motopostri vanno sempre più veloci dalla mia quindi mi pioia niente niente porco cane mo non mi riesce più una curva questa riapre il campionato sta corsa no eh sto ultimo non prendo manco un punto terrole mi riprende e tu stai io potrei riprendere tu stai terzo ti crede che tanto che stai da me ultimo giro oh ti giuro mi ha messo la cosa non mi piace ma a pari tosto di che no ma va bene sono io che ho sbagliato stavolta non è la moto mi ha pari una seicento una seicento però è come viaggio ah pensa la seicentina della fiat ma perché che ne hai detto la seicento siamo pronti di moto scusa sono ancora intrompito dalla bocca no tu sei un po' è giusto adesso lo fai punizione adesso a cavalletti la moto scendo e ci piscio ti togli il casco ti metti il dito nel naso in bravità ma come faccio eh 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 cerchi come fai no guarda guarda ma hanno messo in mezzo guarda sti stronzi ma levate vogliono fare un palino oh cazzo io no però no 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 porco mondo ladro te l'ho detto te l'ho detto non te la regge è stronza no 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 perché non ha già san bartolomeo eh voraggio perché grazie per aver tenuto terror grazie per aver tenuto terror prego basta male fila eh dai piglio no no grazie che hai provato a sbragarlo sì bravo si è cascato sì no mettendo ormai che palle rifacciamo no come va va affanculo ecco te ma tu guarda la madonna sempre così vado eh giusto cioè ho perso 50 punti con una botta tu sì ma è bello vai affanculo però di canna mamma mia che garaccia ragazzi no no non va bene che brutta gara te vabbè eh cioè sì guarda c'ho un'onda camemea davanti cazzo eh decimo eh anch'io con sedicesimo no mamma mia che peccato ragazzi la pista bagnata non ci ha aiutato anche se stava mandando bene stava mandando bene all'ultimo a me a parte non sobravato tor non riuscito ma che poi c'è stavo un attimo in alzarla e partita io shi shi io io però aspetta sono 20 punti ce la fai eh cioè la vogliete stanotte tu gare io mi devo preoccupare di terror col bastardo dietro tu c'è volendo secondo sì sì secondo sì vabbè pure primo dipende se arrivo tutte le gare no mi sono cagato ragazzi ragazzi allora anche eh ma lo sono giocato mi spiace ragazzi ma giusto però vi do una chicca se è andata alla snai giocatevi vincitore il modo 2 il prossimo anno gioca ok ragazzi allora attenzione evento wildcard ho visto una cosa evento wildcard attenzione giusto per spoilerare vediamo l'evento wildcard di perché qui ah qui e guarda dove si vede eh lo so lo so che è sicura Valencia non mi toccare eh lo so eh sicura in Valencia quindi ragazzi ci saranno altre regare ragazzi il prossimo sarà l'evento wildcard correremo a Valencia la moto non si sa la moto non si sa la moto ma io vincere anche con la bicicletta è giusto perché quella è la mia testa quella è il mio regno sì quella è il regno di Dio cioè è il regno mio sì certo allora ragazzi non avete capito vabbè ok ragazzi anche questa gara è finita è una gara del cazzo come al solito spero che vi sia piaciuto che vi siate divertiti mettete un bel mi piace al video un bel commento un pollice in su iscrivetevi al canale e ricordate ragazzi il canale Bad Boys e cosa altro dire bella se beccano ciao vattate ciao